che vuol dire questo secondo voi che la scuola ha riaperto i battenti eccoli con la sua solita routine come stai benissimo quando ti vedo e tante novità e quale chi è appena arrivata non è che è un profumo innamorato isa passamaglia è sempre straordinariamente prof chiara cos'hai mia nonna ha perso il lavoro stavolta sarà anche misteriosamente donna scusami perdonami lasciami stare iso ma chi avrà combinato per fare tutto questo trambusto ma non sai che confessare è meglio che farsi scoprire lo scopriremo solo vedendo luciano litizzetto in fuori classe 2 prima visione su rai 1 prossimamente